È stato inaugurato stamattina a Casalguidi, in via del Pollaccio 15, il comitato elettorale delle sei liste del centro-sinistra di Serravalle Pistoiese a sostegno di Eugenio Gianni. Partito Democratico, Italia Viva, Orgoglio Toscana per Gianni, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde, Svolta. Abbiamo aperto questa sede perché vogliamo far conoscere sempre di più i nostri candidati, a cominciare dal candidato presidente Gianni, che secondo noi rappresenta la continuità ma rappresenta anche l'innovazione, perché basta leggere il suo programma e ci sono cose nuove e interessanti per la Toscana. È importante anche la continuità perché se vogliamo che la Toscana resti quella regione che tutti conosciamo, dove per esempio la sanità è al primo posto secondo il sole 24 ore in Italia, dobbiamo votare per il centro-sinistra. E qui, anche se può essere antipatico, voglio fare un appello per il voto utile dagli ultimi sondaggi, cioè sembra, dicono tutti quanti, che i due candidati sono oltre il 40%, quindi molto probabilmente non ci sarà ballottaggio in Toscana. Per cui, ecco, non c'è un secondo tempo, quindi invito anche quelli come 5 Stelle o altri partiti di sinistra che vogliono che la Toscana resti con i suoi valori di libertà e di solidarietà a votare per il centro-sinistra. Il comitato è l'unico, credo, in provincia di Pistoia che rappresenta tutta la coalizione in appoggio del candidato alla presidenza Eugenio Gianni. Ci siamo impegnati perché in questo momento deve avere la maggior visibilità il nostro candidato a presidenza e in tanti stanno insistendo, in molti, anche sul voto disgiunto, che noi vogliamo ancora far più presente e dare ancora più forza a Eugenio Gianni. Siamo un appoggio a Gianni perché è la persona giusta, una persona competente nelle tutte le pratiche amministrative. È riuscito a unirci con le nostre differenze anche di amministrazione. Noi vogliamo portare l'Europa in Toscana, vogliamo confermare l'Europa in Toscana, vogliamo valorizzare la cultura, l'artigianato e aiutare in questo momento qui la scuola che ha in tante difficoltà, la piccola e media impresa. È molto importante diremente questa campagna elettorale, queste elezioni più di sempre. Bisogna mantenere la Toscana solidale, una Toscana in cui la sanità pubblica funziona, anche se bisogna mettere a punto ancora diverse cose, ma la solidità di questa struttura, di questa impostazione del modello toscano sia nel welfare che nella sanità deve essere in tutti i modi continuato, proseguito in questa strada. Diversamente sarebbe davvero un disastro a livello socio-culturale e anche sanitario. Sono candidata per Italian Comune all'interno della lista svolta. Una lista a sostegno naturalmente di Eugenio Gianni, siamo progressisti, ecologisti, abbiamo intenzione di essere il pungolo dall'interno nella coalizione di centro-sinistra per svoltare verso una Toscana che sia inclusiva, che sia per le donne, per le famiglie, che sia una Toscana progressista e sempre, sempre, sempre avanti e in evoluzione.